Signor Vigile! Signor Vigile! Sì, che le dica? Mi mo'era, le andate per spesa e le ne pugno da qua. Ma sono preoccupato da mare. Allora, mi dica, quante altre signora? Beh, voi santa, voi stanta, insomma... Quanto pesa? Insomma, le zero, però proprio non neanche zero. Insomma, la mia grassa, una fessa magra, ecco. Occhi? Due. Ha il colore di oce. Ha il colore di oce, ha di ris castani. Ha il colore di cavi? Eh, la si accambia, delle voltile bionda, delle voltile rossa, una media via, ha di ris castani, in calore, ecco. E come l'era vestita? Ecco, i breghi forse, i longhi, i curti, forse si legava la vesta. Con che veicolo è uscita? Bicicletta, telaio in carbonio, bianchi, color carta da zucchero, cambio Shimano al manubrio, a destra e a sinistra, per via del cambio davanti e il cambio d'ardè. Davanti. E poi ammortizzatori atomic, Garmin, perché anche il GPS, è una cosa con... Le gemme davanti, quella d'ardè rossa, quella davanti, le quadredano la lusa, la lusa le quadredano davanti... Ma sono di spra, sono di spra... Che si preoccupa mica? La sua bicicletta la catarama sicuramente. Se avessi promise... La sua bicicletta la catarrama sicuramente... La sua skateboard... Questa racista... Rebila! Questa